Nelle centinaia di pagine dell'inchiesta emerge che l'opera è ancora in corso di realizzazione. Secondo il cronoprogramma, i lavori si sarebbero dovuti concludere a gennaio dello scorso anno, ma il piano è fermo ancora al 60%. Dunque appare evidente che il nuovo porto è praticamente fantasma, poiché nei fondali, secondo i militari dello SDAI della Marina, sono presenti più di 100 ordini bellici. È proprio su questo elemento che le indagini si sono concentrate, appurando che l'autorizzazione ad accedere all'area sia stata validata nonostante la presenza delle bombe, attraverso una serie di false relazioni che attestavano l'avvenuta bonifica dei fondali, oltre che una fittizia rendicontazione al Ministero degli Interni sull'ammontare complessivo dei finanziamenti. Secondo le accusa, le operazioni tecnico-amministrative illecite sarebbero state ben studiate, in modo da non destare sospetto a Lati, che diversamente avrebbe dovuto chiudere il cantiere nel 2011 a causa della presenza degli ordini. È evidente che prima dell'avvio dei lavori di dragaggio fosse necessaria la bonifica dei fondali, per questo Lati non avrebbe dovuto accettare la consegna dei lavori e quindi non avanzare richieste di proroghe, ragione per la quale l'attuale sindaco di Molfetta, Paola Natalicchio, ha spiegato lei stessa qualche tempo fa di aver avanzato una richiesta di danni per oltre 21 milioni di euro. Infine, nell'ambito dei reati ambientali e paesaggistici, è stato accertato che nel porto sarebbe stata realizzata una discarica abusiva all'interno del cantiere dove sono presenti gli ordini bellici, già rimossi durante il dragaggio del fondale. Infine, il Comune di Molfetta avrebbe anche omesso di dichiarare che nell'area del porto esistevano vincoli paesaggistici, elemento che avrebbe impedito all'amministrazione comunale di ottenere i finanziamenti pubblici.